Musica Bentornati con le consuite previsioni a cura di Meteo One. Una vasta area depressionaria alimentata da area artica va lentamente avvicinandosi all'Europa centrale e all'Italia, a partire dal nord. Tale perturbazione attiverà inizialmente forti correnti sud-occidentali, accompagnate da precipitazioni e rovesci diffusi su tutta la penisola. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 5 novembre. Al mattino nuvolosità diffusa sul Foggiano con possibilità di deboli precipitazioni. Durante la giornata la nuvolosità andrà aumentando anche sul resto delle regioni, con deboli piogge che potranno interessare solo il tavoliere e il gargano. Dalla sera possibili nebbie e nubi basse lungo le aree ioniche, ma assenza di precipitazioni. Temperature massime e minime in aumento su tutti i settori. Venti da scirocco inizieranno a soffiare da moderati a forti durante la giornata, con raffiche entrosera che potranno raggiungere 50 km orari, su gargano, potentino, morge e aree ioniche. Mare mossi o molto mosso lo Ionio, più calmo l'Adriatico. Ed ora ecco la nostra foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Nicola Calabrese per questa incantevole alba, avvolta in una suggestiva atmosfera ricca di colori caldi. È stata fotografata sulle coste di Torre a Mare, Bari. Se volete inviare anche voi la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.